Deve rispondere di furto aggravato un 33enne già noto alle forze dell'ordine accusato di aver rubato 500 kg di metallo tra rame, ottone e alluminio dall'FG di strada cartigliana a Bassano. Avrebbe agito probabilmente non da solo nel primo fine settimana di marzo intrufolandosi nell'azienda dopo aver tagliato la recinzione nel punto più nascosto. Dalle indagini è stato individuato un Fiat Fiorino che si era girato proprio in quei giorni nei pressi della ditta che ha permesso ai militari di risalire al 33enne. Lui denunciato della merce neanche l'ombra.